domande di poca importanza perché quando facciamo domande di poca importanza spesso le risposte non hanno nulla della sapienza dei maestri immateriali commento perché è la mente dello strumento che risponde molti anni fa l'entità attraverso corrado biancastelli disse che alle domande correnti verso le guide lasciano rispondere lo strumento anche la grande medianità e questo aspetto è poco considerato vive di insegnamenti e di pause